Secondo i dati statistici pubblicati dall'Inail, il comparto delle costruzioni edili è quello più colpito da infortuni sul lavoro, un rischio presente purtroppo in molti altri settori e che può essere contrastato con un'adeguata attività di informazione e prevenzione. Da nove anni, attraverso un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, la Metropolitana di Napoli e l'Ansaldo, il Comune promuove corsi di specializzazione e aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che si rivolgono a dipendenti pubblici e studenti universitari. 550 persone formate in questi anni, in questi corsi che vedono insieme i lavoratori di Ansaldo e di Metropolitana e gli studenti del corso di laurea universitario in tecniche della prevenzione negli ambienti di lavoro. Quindi si crea una cultura comune, non solo, ma il lavoro di Metropolitana di Ansaldo è stato oggetto di cinque tesi di laurea per gli anni che sono trascorsi, quindi diventano cultura, si fa formazione, si fa cultura sulla sicurezza. Nella sala giunta del Comune con il sindaco Luigi De Magistris, la cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione che ha coinvolto quest'anno 100 partecipanti.